Sì, quello è mio marito. Chi sono gli allievi migliori della scuola? Quello è Penny. L'aereo di Bacchiet è disperso nell'oceano Pacifico. Ho l'impressione che mio padre non sia stato sincero con me. Non mi sembra vero di essere dall'altra parte del mondo. È così concentrato sul tour. Mi ha distratto con i suoi bellissimi chioni. Begrusso i miei amici in un nuovo distecere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.